E' soddisfatto dell'ottava edizione del premio maestro di pittura? Sono molto soddisfatto di questa edizione che ha raggiunto livelli detti da esperti eccezionali. Io sono non un esperto, ma mi piacciono le cose belle e ho trovato tutti i quadri di questa mostra meravigliosi. Quindi veramente un grazie a coloro che hanno partecipato, alla giuria che ha saputo selezionare tra 650 opere queste 60 finaliste che veramente meritano la nostra attenzione.